Il Ministro Provenzano a Potenza con il Piano per il Sud previsto in rilancio delle aree interne, più fondi ha a disposizione per combattere il divario infrastrutturale. Visita del Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a Potenza. Oggi l'occasione è una presentazione letteraria, ma si è parlato anche di Mezzogiorno, del Piano per il Sud, del divario infrastrutturale. Il Ministro ha ricevuto dai sindacalisti lucani anche un documento come ci spiega Igor Uboldi. Se osserviamo l'Appennino senza tracciare le linee che dividono l'Italia in regioni, allora concetti come meridione e settentrione non hanno più senso. L'Appennino attraversa l'Italia tutta, un elemento di coesione e dunque il convegno a potenza della Fondazione Appennino è una piattaforma perfetta per il Ministro Provenzano. L'occasione per parlare del suo Piano Sud. Nel Piano Sud che abbiamo presentato la scorsa settimana, uno di quelli a cui io sono più affezionato è dedicato proprio al rilancio della strategia per le aree interne. Noi abbiamo raddoppiato le risorse per includere le aree che prima erano escluse e pensato a iniziative non solo per garantire i servizi essenziali in quelle aree, per spezzare l'isolamento infrastrutturale, ma anche per agevolare e consentire che le imprese restino in quei territori. Una posizione con la quale sono d'accordo i segretari generali di CGL Cisle Will Basilicata, che con l'occasione dell'incontro hanno consegnato al Ministro Provenzano al Manifesto per il Lavoro della Basilicata 2030 il patto tra produttori e mondo del lavoro. I leader sindacali hanno sottolineato la necessità di dare avvio a una politica di investimenti nel mezzogiorno. Ed è proprio un progetto sociale ed economico quello che si c'era dietro la ricondizione del libro Cività Pennino. Per scegliere di fare impresa e quindi determinare le condizioni dello sviluppo è necessario conoscere cosa si, tra virgolette, cammina, qual è il territorio, la terra sulla quale stai. Nel momento in cui troviamo prodotti alimentari ormai globalizzati, perlomeno le piccole colture che si producono in Appennino ti danno ancora il senso della certezza. Le aree interne non più sfilacciate ma elemento di cucitura dell'Italia. I giovani devono essere liberi di andare ma devono avere anche l'opportunità di tornare e come spesso ci diciamo bisogna però costruire anche un diritto a restare nei nostri territori e immaginare un futuro dove siamo nati.